bene signori in questo video invece vediamo un metodo per manipolare un uomo ovviamente mentalmente quindi farlo innamorare di voi portarlo a voi questo metodo consiste nella manipolazione mentale attraverso l'abitudine se mi seguite se siete già nel mio club riservato quindi già avete ricevuto la mia assistenza già sapete quindi già sai come funziona linea generale invece non sai quindi se non sai allora devi sapere allora per farlo innamorare attraverso la manipolazione la cosa molto semplice che devi fare è utilizzare la creazione quindi la possibilità di creare un'abitudine ora perché vogliamo creare un'abitudine con un uomo perché l'abitudine è quello che ti consente quindi è quello che ti permette con il passare del tempo di riuscire poi a far sì che la persona pensi o possa pensare in qualche modo di averti presa quindi di averti conquistata e sei tutta sua basta è finito non devo fare più un cazzo non è così non è così perché che succede quando tu crei un'abitudine molti di voi lo fanno anche involontariamente alcuni di voi per esempio già hanno fatto questa cosa già sanno di fare questa cosa voi già la state facendo è solo che non ci avete pensato non ve ne siete resi conto ma in realtà già l'avete fatto perché l'avete già fatto e già avete manipolato senza rendervi conto e tra l'altro saperlo è anche più intelligente come mossa piuttosto che farlo a cazzo di cane come molti lo fanno molte persone lo fanno già perché non è nient'altro che il love bombing cioè una presenza costante o in iper presenza nei confronti di una persona che state frequentando che di conseguenza poi pensa che voi siete tutte sue quindi troppi buongiorno la mattina buongiorno buonanotte buonasera arrivederci e grazie messaggi continui e addirittura dichiarazioni di affetto estreme tutto questo è in realtà manipolazione si chiama love bombing che lo fate perché voi siete insicuri come la mh siete molto insicuri non avete una buona percezione niente di quella che vi circonda la realtà eccetera e quindi pensate in qualche modo che compensare con eccesso di attenzioni sia il modo giusto per ottenere qualcosa ah ma io non faccio così sì certo vallo a dire al tuo inconscio quindi quando fate questo già state manipolando adesso però fatelo nel modo giusto cioè non lo fate male fatelo bene almeno quindi per manipolare voi che cosa fate voi create questa abitudine poi smettete di fornire alla persona questa abitudine cioè smetti di fornire è come se tu a un bambino gli dai da mangiare poi smetti di dargli da mangiare e ne mangiare sempre la nutella poi smetti di dargli da mangiare la nutella stesso principio quello poi avrà il craving carbs craving o sugar craving quindi questa questi crampi di fame della nutella che adesso non è più a disposizione una sorta di dipendenza cioè come creare una vera e propria forma di dipendenza una forma di dipendenza è appunto una soluzione a quelli che sono le metodologie giuste per far innamorare una persona dunque la dipendenza si può creare attraverso diverse abitudini quindi abitudini che vengono indotte per esempio un classico comunque di solito si manda il buongiorno si manda sempre poi si smette di botto di farlo o quello che state facendo adesso a livello di attenzioni gli state fornendo a questa persona continuate a fornirle poi smettete di fornire queste attenzioni smettere di fornire queste attenzioni non farà nient'altro che garantirvi una un miglioramento nel senso garantirvi quindi la possibilità di migliorare la possibilità di far sì che l'altra persona smetta di darvi per scontate quindi quasi di controintuito la soluzione è farsi dare per scontati per un po' quando si inizia a essere dati quindi si inizia a essere visti per scontati è proprio là che c'è tra virgolette lo switch cioè il cambiamento in un cambiamento che di base ci porta poi a poter fare leva quindi fare leva la fate quando lui vi percepisce in quel caso come persone che sono già conquistate quindi a lei l'ho conquistata basta non devo fare nient'altro lei è già innamorata non mi serve nient'altro e poi in realtà questo non è vero quindi questo diventa una menzogna una loro percezione distorta della realtà quindi l'obiettivo è fare questo non so quanto tempo ci vuole dipende in base al vostro caso persone che seguono magari per una settimana per due settimane poi vengono date per scontate poi magari no magari per un mese ci vuole un mese di continua abitudine dipende dalla persona ma comunque lo notate quindi saprete che la persona è vi sta dando per scontata quando tutto quello che sta facendo le dimostrazioni di affetto si riducono comunque notate che diventa un po' più compiacente quindi un po' più tranquilla quando l'altro diventa più tranquillo voi piano piano iniziate a togliere potete scegliere se togliere le vostre abitudini o quello che avete fornito immediatamente oppure no quindi toglierlo di netto per esempio smettere di sbotto di mandare messaggi del buongiorno oppure di non fare questo quindi lo potete fare anche con calma quindi ci saranno dei giorni dove voi lo fate dei giorni quindi che piano piano andate a togliere queste attenzioni le andate a rimuovere completamente ci saranno poi dei giorni in cui lo fate di netto quindi fate dei tagli netti questi tagli ovviamente se fatti di netto sono più pericolosi perché poi l'altro vi chiederà spiegazioni quando vi chiede spiegazioni dovete essere in grado di dire guarda semplicemente non so di che cosa stai parlando o addirittura ma sai sono per io adesso sono un po così o ancora semplicemente provocare la persona e dirgli ah ma quindi ti manco tanto ma certo amore quindi fare tra virgolette l'occhio del mercante non lo so comunque l'occhio tra virgolette che glissa quindi la persona che alla fine dei conti va a ovviare al problema non ne va a parlare e che anzi fa capire all'altro che non sta succedendo niente di particolare nonostante l'altro lo denoti e piano piano togliere queste attenzioni e vedere come l'altro viene verso di voi queste sono delle tecniche quindi questa è tutta la base di quello che serve per far sì che si crei una dinamica di innamoramento è importante bene io spero di esservi stato utile iscrivetevi al canale e scrivetemi su instagram trovate il link qui sotto in descrizione scrivetemi su instagram per ricevere il mio aiuto e accedere ovviamente al mio club riservato noi ci sentiamo al prossimo ciao